Ha avuto modo di conoscere questo progetto che porta 15 nuovi ambasciatori delle opportunità delle scuole milanesi. Cosa ne pensa e come giudica l'iniziativa? Come Uai siamo assolutamente fieri di poter promuovere un'opportunità multidisciplinare e intergenerazionale come questa che ha un posizionamento sicuramente importante nel futuro del lavoro, volta al dialogo, alla conoscenza e soprattutto alla consapevolezza di quelli che sono i diritti sulle pari opportunità perché lo sono e vanno difesi. Come donna ha mai riscontrato un stereotipo di genere nel suo cammino professionale o di studio? Nel mio percorso professionale o formativo assolutamente no, penso di essere stata fortunata nell'avere avuto comunque dei mentor di riferimento sia donne ma anche tanti uomini che mi hanno valorizzata per il mio talento, per la mia conoscenza, per quello che avevo da dire, da condividere a livello progettuale. Penso probabilmente però che le nuove generazioni siano anche un po' più consapevoli rispetto la mia, quindi forse non mi sono resa conto a volte dell'eventuale discrimine. Adesso sono sicuramente più attenta e quindi ho il desiderio di battermi anche per questo. Cosa pensa di questi 15 nuovi ambasciatori? Sicuramente oggi ho incontrato 14 donne e un uomo a rappresentarsi appunto come ambasciatori e ambasciatrici di questa favolosa opportunità. Quello che penso che sia sicuramente diciamo un piccolo pezzetto che possiamo fare per migliorare il futuro del lavoro di queste persone perché loro hanno sicuramente maggiore consapevolezza rispetto alle generazioni passate, hanno un sogno, quello che hanno condiviso oggi e noi abbiamo l'impegno come HR Management di poter supportare questi ragazzi nella promozione appunto del futuro del lavoro e nel raggiungimento di questi obiettivi.